... ... ... ... ... ... Ad Aversa la terza cursa e il premio parteno per una... ... ... ... ... ... In seconda Agassi, Griff, Vandalodesi, Viscoget, Solocaf e Zolaegral. Zucoget, come al solito è il più sollecito, assume l'iniziativa nei confronti di Boletus. Posizioni che si vanno delineando, a largo è rimasto Tony Pride. Adesso cerca di puntare in avanti, lancio in 14, partito bene dalla seconda fila Zolaegral, sbaglia Biancaneve SM. Tony Pride affianca Zucoget in testa alla gara, 33 il primo quarto, Zucoget e Tony Pride. Poi Boletus e Zolaegral, sta passando Tony Pride sulla condiscendente Zucoget. A largo interviene Zolaegral, 46.3600. Tony Pride leader affiancato da Zolaegral, terza ruota per Vandalodesi, 1.1, gli 800. Terza ruota costante per l'allievo di Sbocchi, 15.2 il primo chilometro. Vandalodesi non riesce ad aggirare Zolaegral. Adesso ci riesce e passa a condurre, ma manca ancora un giro e Sbocchi non se n'è accorto, non se n'è accorto. Adesso si ferma pure, non se n'è accorto ancora. E così è di nuovo Tony Pride al comando. Ritorna però Vandalodesi, di nuovo su Tony Pride e Zolaegral affiancati. 2-2, qualche spicciolo il miglio, Tony Pride allunga. Si trascina Zucoget lungo i paletti. L'errore di Zucoget, l'errore di Agassi Grif. E così Tony Pride rimane isolato al comando, inseguito da Solocaff a centropista. Zucoget, Boletus e Solocaff. 3-1-10. 2-31,5. Per il ritrovato Tony Pride, che a dieci anni inoltrati, ritorna alla vittoria. Il figlio di Nadal Sheba e Lady Pride, interpretato da Michele Immobile, che chiaramente neanche proprietario. Giuseppe Immobile al training.